allora ecco ma siamo qua con britney e cielo in americano perché ci chiami dalla britney è una nostra vecchia conoscenza vai coi punti britney ok allora partiamo dal leggero sono andata a sequoia parchi quest'estate è stato bellissimo però per tre notti non abbiamo dormito forse un po agitati dal fatto che c'erano gli orsi abbiamo anche visto un orso bellissimo mi è passato più vicino meraviglia e poi comunque ho smesso di fumare quindi volevo capire se magari ho abbracciato un sacco di sequoie alcune le ho sentite proprio calde ma così calde e da lì ho smesso di fumare ma era un obiettivo o è un risultato giusto per capire chissà che cosa c'è lì che tipo di energia magari c'è lì che cosa può essere successo però mi è tornata la voglia di fumare quando è venuta mia madre a natale cioè dopo due anni e mezzo che non la vedevo è venuta provarci ed è stato terribile non me la ricordavo così ti ha svuotato l'energia mi ha proprio svuotato cioè io ancora adesso faccio fatica mi sento stanchissima morta ammazzata non riesco a riprendermi da questa cosa è stata così negativa ma io non è mai stata così ovviamente cinevaccata e che te lo dico a fare e quindi vedere come mai sono andata così giù di energia perché sinceramente mi sono proprio sentita ma male cioè l'ho scaricata in aeroporto quando è andata via l'ho quasi tirato un calcio nel sedere ho detto vai sono proprio scappata l'ho molata lì sono scappata brutalmente poi cosa voglio un punto molto importante è il mio visto lavorativo o per meglio dire questo lavorativo che riguarda a me e la mia famiglia quindi attraverso mio marito in questo momento abbiamo un intoppo nel senso che non si sa perché non stanno rinnovando il visto quindi se non rinnovano il visto a giugno bisogna tornare a casa e anche no grazie l'altra possibilità è la green card c'è una lotteria ogni anno vengono estrati e quest'anno maggio ovviamente verrà estratto perché abbiamo partecipato a ottobre e quindi a maggio vengono estratti quindi giusto capire se insomma si continua non si continua qua oppure anche lavorativamente mio marito hanno promesso che gli fanno la green card però sai sono sei anni che giriamo in giro per in nord america quindi insomma tanta fiducia non ne ho questo è borderline con l'ipnosi però andiamo a vedere sì nel senso se tutto no mettiamo ad eterno sull'uscis che sta facendo sta facendo le nostre pratiche qualcuno si mette una mano di sulla coscienza altra cosa poi cosa volevo vedere o come diventare una perla quanto mi sono piaciute per le perle lì che non te lo dico questo è un punto che ti volevo dire fuori dalla registrazione ma te lo dico ma non è che si diventa perla si nasce perle le perle sono una forma di ps evoluta che ha una sorta di scudo dalle interferenze tu puoi diventare e refrattaria le interferenze in vari modi soprattutto lavorando sulla tua consapevolezza lavorando sulle tue capacità medianiche lavorando la tua percentuale di cervello utilizzata però dire anche fare degli esperimenti fare degli esercizi a seconda delle persone per esempio della banale nella banalissima telecinesi uno si deve mettere lì e fare le prove tutti i giorni e dopo magari un anno due anni o due giorni inizia a spostare il tappo di bottiglia con il pensiero quello porta il suo cervello passare da 8 no per cento a 12 15 boom così quindi sei già più perla se vuoi tra virgolette no per le sessioni quello lo stai facendo lo fai da coinvolgere i tuoi figli non dico né vedere le sessioni ma nel nello sviluppare delle capacità che non sono toccare lo schermo di un tablet ma magari non lo so di recente ho visto una giovane mamma che leggeva le fiabe al figlio io mi sono quasi commosso delle piccole giovedì brevi fra fiabe al figlio lino di due anni mi sembra che era lì rapito e sconvolto molto coinvolto dalla da tutto per lei il padre e il figlio tutti e tre insieme semi abbracciati quindi c'era contatto fisico contatto vocale una parte la leggeva la mamma una parte la leggeva il papà la lingua la lingua lui guardava quindi stava già imparando a leggere a due anni di fatto non era ipadano per memoria i libri i miei si ricordano per memoria i libri anche io all'epoca anche io mi ricordavo tutte le foto di disegni che girava la pagina e dopo il coniglietto c'era la volpe no che ne so e così via questo può essere un modo che può aiutare te e può aiutare i tuoi figli sono tutte idee solo sì perfetto e quindi appunto mi allora volevo sapere anche come collegare tutti quei bellissimi fili a tutte quelle belle capacità mediali che se quella dove siete andati una volta la attaccare ma proprio attaccare tutte se possibile anche i componenti della famiglia col grande l'altro giorno gli ho fatto ascoltare il pezzo sui videogame e mi ha guardato come per dire sì di nuovo ci risiamo infatti ma è sempre l'amico tuo quello che parla è sempre l'amico mio quello che parla però ha smesso di giocare a fortnite che è tanta roba secondo me nel senso che non ha più provato interesse per quello ma mi ha detto mamma giochi tu con me a tipo intendo le sono proprio stupidaggine no c'è roba da bambine se cosa mi hanno se cosa mi hanno scritto l'altro giorno l'ho messo su facebook ma lo leggo lo leggo qui nella registrazione sotto ovviamente non lo trovo è stata una veramente una grande ciao lucio volevo dire un ragazzo non giovanissimissimo 22 23 anni più o meno ciao lucio volevo dirti che da quando hai fatto live game ho perso l'interesse per i videogiochi ea pensarci non mi attirano più senza che io vedessi il video prima grazie per quello che fai il 21 dicembre 2021 cambiamo discorso ma neanche tanto abbiamo registrato la sessione fiamme e abbiamo messo sul cielo e lo specchio in modo che le fiamme si riconoscessero una persona noi cara ha trovato la propria fiamma quel giorno e la sessione è stata pubblicata in fretta tipo 23 giorni dopo lì mi ha contattato e mi ha chiesto ma quando è che l'hai fatta senza dirmi nulla io glielo ho detto lui ne abbiamo noi l'abbiamo fatta la mattina e lui il pomeriggio dello stesso giorno ha trovato la fiamma ed è la fiamma abbiamo pericato abbiamo un sacco di feedback sulla de ternum la de ternum usatelo fatelo è anche gratis fino a che non metto il copyright e funziona c'è gente che ha cambiato persone giornate ha cambiato l'energia di negozi case c'è gente che l'ha messo nella gola di dragos e dragos non sta tanto bene cioè capisci ok quindi allora sì quello che dici tu perfetto io tra l'altro ho cominciato quando avete tirato fuori appunto la sessione sulla de ternum io però cioè io ci provo ok però tutti i giorni ne avrò fatte circa 10 miliardi sparsi ovunque come li fai i miei figli come le faccio le immagino le immagino l'epocalizzo le immagino come se fosse una piccola sfera e di solito per me è tipo gialla dentro e poi tipo con gli spike che fa così azzurra ok e l'ho infilate ovunque poi è arrivata mia madre e mi sono ammazzata cioè mi sono proprio depressa cioè l'ho data anche a lei ma non mi sembra sia servito quindi io devo capire se quello che io cerco di fare viene fatto capito perché io sto provando a invitare persone a prendere la pillola vic c'è tipo ogni mattina prendiamo questa non so se mi ascolta cioè non so che a che a che con me la de ternum funziona soprattutto per te da te a te te stessa no quindi non è che deve diventare una forma coercitiva di evoluzione imposta si è solito con la de ternum e la mamma niente improvvisamente il guru della mia vita no la mamma ha fatto quel percorso vuole fare quell'esperienza ma se la faccia si vuole cinibaccare sicili va che ne assumerà tutte le eventuali e probabili conseguenze cavoli suoi però allora fai un cinema fai un ad eternum per la tua giornata che è venuta trovati la mamma e la tua giornata sarà invece girata poi se posso dare un consiglio ma non ci sono delle regole io lo faccio uscire dal chakra del cuore io non ne non lo faccio sempre uguale più o meno lo visualizzo sempre in maniera diversa io gli metto dentro un messaggio a seconda voglia mandare a me stesso alla giornata o anche a un'altra persona però deve essere una persona medicina non il primo che passa o che la persona magari che ho avvertito che comunque è a me vicina e poi io sento che quando lo mando ok e quando lo invio in qualche modo dalle mie mani quasi muove le dita quando esce quando scappa via sento proprio le mie dita che fanno così quando esce questa palla esce fuori fanno così lo fanno da sole non faccio niente io lo faccio io che ho il copyright dai dai punti punti 11 anni ti vai se cuoie cine vacca forza infatti un sogno che ti civaccano e ti mettono il chip bene vuoi diventare per l'alberto cinema lo facciamo figli marito figli marito mi raccomando lucio non ci deve cioè io li prendo calcino e sedere non c'è possibilità direzione contraria ok stanno lì guardano e devono imparare non è opzionale devono imparare perché io devo capire quale tipo di fatto abbiamo stretto io e i miei cari figlioli e tipo stamattina quello piccolo come ti ho detto ritardiamo un attimo perché non voleva alzarsi dal letto alle sei e mezza tutte le mattine e si sveglia oggi alle otto meno un quarto ancora non voleva alzarsi per esempio cioè oppure è ancora troppo indietro cioè per favore lui proprio bisogna collegargli proprio la spina il cervello a qualcosa di intelligente perché mia fa non c'è affatto cioè proprio lui quello piccolo assolutamente deve essere partecipe perché se no al fatto quello che sia sia comunque va sciolto e in qualche modo le nostre strade dovranno prendere altre direzioni tuo marito vede le sessioni no mio marito non vede le sessioni perché è un po' stronzetto ma ciao marito di britney e come? ciao marito di britney la vedrà questa e non lo so vediamo però lui è molto attento cioè non mi dà la soddisfazione di dire sì d'oretta a qualcun altro sto guardando il video di qualcun altro però cioè mentre io ho bisogno di guardare i vostri video per avere anche una un'idea per visualizzare di provare a visualizzare o per avere delle idee nuove a lui poi vengono automatiche non so come dirti io li guardo e lui fa lui è un po' strano cioè noi siamo molto collegati soprattutto ultimamente siamo molto collegati cioè io penso cosa cucinare stasera e lui dice stasera facciamo questo una cavolata oppure beh la domanda qual è britney qual è la domanda beh ma anche se non so valutare questo non so valutare questo non ho capito niente scusa ho detto anche se non fosse io non do di testa in un divorzio ok va beh cioè nel senso non sono una di quelle persone che dice oh no non è la tua fiamma e quindi devo andare a cercare la fiamma fa molto bene così il mio matrimonio meraviglioso però siamo molto molto collegati molto cioè noi preferiamo ok sempre se devo salvare qualcuno salvo te non i figli tutti e due lo dite sì 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 assolutamente oh beh niente attività serenità gioia salute abbondanza sì beh insomma se andiamo sul pianeta felicità ah no invece una domanda che mi è venuta adesso ma il portale dell'oblio bellissima invenzione ma non ci possiamo buttare tutti questi fantastici politici nulla facenti nulla perché è l'ultima una delle ultime sessioni ho sentito che possono andarci anche gli esseri viventi certo sì 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 e se li lanciamo tutti là dentro sì ma per te vale solo per te ritmi se canta c ua mortai ma dai 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 non essere vergognoso cercare una cosa che non me la ricordi ok e poi senti tu nel tuo nel mio futuro vedi la prigione perché prigione perché non te lo posso dire non te lo posso dire perché stai registrando ma una domanda interessante ma e poi governatore della california sì beh tutti cioè tutti coloro che vogliono come dire anche il bidet tutti tutti devono andar via tutti il vecchiaccio ma è vero che in tutti gli stadi dicono no era deve essere fac vai bene invece dicono allora io sulla cosa della sulla dietro della macchina ho lo stickers con fac biden se no invece dicono invece che fac biden dicono io sento solo fac biden no buongiorno set go 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 qualcosa non mi ricordo però per indicare fuck biden va bene britney governatore iniziamo buon divertimento brava brava britney 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 che povera free britney c'è pure la tua sessione free britney aspetta mi all'inizio ok conto giusto conto da 5 a 1 Elena e ti connetti a britney che ci ha parlato e ci ha fatto ridere finora 5 4 3 2 1 ok come la vedi allora lei la vedo tipo in mezzo a una piazza con tanto come se fossi in un quartiere residenziale ok del posto dove vive presumo c'è questa questa piazza con tutte come se ci fossero poi le case tutte circolari intorno e lei lì in mezzo alla piazza che in maniera molto simpatica e allegra sta spiegando a le persone che abitano lì che devono stare tutti attenti devono stare molto svegli perché se dormono non usciranno non rimarranno sempre bloccati lì e la vedo che comunque appunto diciamo dice ad alta voce queste frasi no vuol passare questo messaggio è lì con una specie di coroncina no sei tipo quelle delle bambine di plastica e che cerca di passare questo messaggio agli abitanti della piazza ti dà l'autorizzazione si ok bene come la vedi come vibrazione 25 miliardi consapevolezza 183 psp 55 45 vite precedenti 983 cervello 9.3 attuali capacità medianiche di britney allora riesce a essere collegata energeticamente si collega energeticamente alle persone e alle persone le più affine in particolar modo i suoi familiari ma se le dovesse conoscere qualcuno di estraneo che però è affine tipo che le vibrazioni sono simili quindi lei riuscirebbe a entrarci in contatto ok e potenzialmente future potenzialmente potrebbe leggerne il pensiero e leggerne le emozioni di solito ne vedo che vanno pari passo e potrebbe anche arrivare a spostare gli oggetti quindi ti del cinesi molto bene cinema marito due figli maschi grande piccolo madre marito i due figli tutti davanti madre la mamma più o meno metà del cinema medio interesse si è più un timore più che c'è sarebbe anche interessata ma è timorosa è come se avesse paura di un carico ce la vedo che è sempre allerta di tutto e anche in questo caso entra con questa sua allerta scusa britney to tua mamma è religiosa medio vabbè a medio comunque io non capisco perché la gente a volte arriva al cinema con questi stati d'animo e non se li fa venire invece imposti come le chiese dove veramente bisogna stare attenti dove c'è tanta di quella roba che gira che non vi dico se poi è un funerale ciao proprio o una bella messa di quei giorni un po particolari la messa del primo maggio esiste la messa del primo maggio non lo so io non sono battezzato ti ricordi britney che non sono battezzato brava non è proprio quello che facevo io con quel gesto lì però più o meno bene chi che cosa fanno chi è il più interessato ci focalizziamo su due figli e il marito figlio piccolo bene e come la psd del marito sto osservando voglio essere sicura metti le due mani se vuoi se te lo fanno fare una volta non è la psd lego è una manovra sia selu comunque sono fiamme confermo assurda comunque stanno arrivando tutto e adesso no allora sì è una giocarellona britney ma forse non ha ben capito in cosa si trova non è completamente capito in cosa ti trovi però adesso aspettato il percorso adesso inverso no c'è già tutto ma non è ancora perfettamente capito non sa la forza che ha ok il marito dalla fiamma la ps è la stessa lui pensa delle cose e lei anche lui arriva a casa pensava di fare per cena spaghetti lo scoglio con le vongole di quel tipo e lui non si spiega perché sono connessi e sai che lei prima diceva spiegami come si fa diventare perla non si può diventare perle ma con la forza delle fiamme il tenere fuori le interferenze è quasi automatico quindi come se fosse una perla esatto ma ci vuole collaborazione col marito marito deve vedersi tutti i video ma ci deve essere una simbiosa accogliere esatto cioè accogliere le sue proposte la sua le sue scelte le sue potenzialmente questa è l'ultima incarnazione di britney visto che si è sposata da infatti si sono trovati proprio senza senza permettere alcuna interferenza quindi potenzialmente sì perché è proprio l'ideale c'è sono sposati fatti figli pure quindi figura due figli di le fiamme figurati bene il marito quanto vibra sette lo 10 miliardi va bene quindi interessato vuole stare lì sì 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 adesso che ha visto tutto questo cosa fa da solo questa parte stupito ma non troppo nel senso un po come se in eterico lui sapeva che erano particola che loro rapporto era molto particolare molto forte molto coeso diciamo che adesso che ha visto la potenza della loro ps ecco quella parte di lo lo stupisce un po e lo rende più entusiasta andiamo indietro nel passato andiamo a vedere se ci sono altre vite passate parallele dove si sono sfiorati ci sono già incontrati se ne arrivano due principalmente una erano due fratelli maschi e uno erano padre e figlia queste due qua ok facciamo un piccolo viaggio nel tempo vuoi elena se saliamo su una macchina che viaggia nel tempo e andiamo indietro 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 ci sono le prime incarnazioni di britney e del marito per infatti loro torna indietro torna indietro come quando riavvolge un film e ci sono queste due parti subliminali che stanno tornando indietro cioè stanno ma al contrario no stanno per staccarsi rimandiamo in play sono nella sorgente e scende una pallina luminosa a un certo punto dimmi quando la parina si separa in due palline quando si separa ferma la visione allora muore sono al passaggio e quindi si incarnano separati c'è la pallina si separa e si in carna separata alla 351esima vita di britney non ho capito in che senso all'inizio non ci sono vite c'è una parte subliminale che entra nella matrix credo che quando entra nella matrix le due palline si separano ma sono due parti subliminali ancora ma c'è ci sono delle vite che vive in un un corpo solo o o c'è su due palline 2 ps che sono la stessa ma separate dopo sì dopo si separano sì cazzo quanti quanti vite allora la persona a 2 ps ed è la stessa c'è la fiamma la ps che si incarna in due persone diverse dc da quante no no quante allora tu mi hai detto che la ps si sdoppia ma se la prima volta che si incarna e tutte e due nella stessa persona esatto in quanti casi nel caso di britney quante vite questo avviene fino alla 350 esima cosa mi avevi detto ok e alla 350 unesima che succede si divide in due persone ok voglio sapere cosa si dicono alla 350 unesima le due ps mentalmente già mentalmente cosa cosa si comunicano visto che quello è un cambiamento ciao ci vediamo mi dispiace che succede nel caso di britney nel suo caso solo ogni caso a sé decidono decide decidono a seconda dell'esperienza loro nel caso di britney hanno fatto delle esperienze nelle 350 vite che erano da fare prima di dividersi in fiamme quindi finita quelli quelle esperienze lì detto che adesso possiamo provare a sperimentarci divisi in fiamme ok e hanno deciso di alcune vite non incontrarsi di sperimentare quella parte lì alcune vite viversi ma non da coppia incontrarsi ok alcune vite prima di questa dove hanno programmato degli incontri che però con la consapevolezza non sono andati cioè si sono incontrati ma non si sono non erano abbastanza consapevole da riconoscersi e questa qua allora dire che è la terza vita che vivono come coppia però non tutta nel senso le altre due hanno vissuto dei brevi pezzi come coppia poi per vari motivi si sono separati in una lui è morto precocemente e nell'altra invece si sono divisi per problemi legati alla famiglia questa è invece in questa poi alla fine sono riusciti a fare tutto il percorso la coppia molto bene torniamo all'analisi entità che britney ha già fatto diverse sessioni non in epoca entità mentali quindi entità mentali ma prima vediamo l'entità eteri che se ci sono allora adesso c'è c'è un falconiforme che però molto debole che si è attaccato da poco non c'era fino a mesetto fa direi l'unica etica che vedo c'era ogni tanto allora c'era una mantide fino a quest'estate che poi si è sganciata allora la mantide si è sganciata durante il viaggio al sequoia park mi sembra ed era legata a un'entità mentale all'entità mentale collettiva del fumo è una sua entità mentale che era legata all'entità mentale collettiva del fumo che era di livello 4 era era se non ci sono non c'è più le no è in occasione appunto di dire un mese fa delle vacanze di natale si è attaccato questo falconiforme lei aveva si sono abbassate le vibrazioni parecchio dal punto che il falconiforme è riuscito di nuovo entrare interferirla poi ci sono direi 22 mentita mentali una di livello 2 1 di livello 3 quando hanno curati il livello 3 è come se le mettesse ma lei agisce interagisce con il mondo esterno con quelli che le girano intorno soprattutto sui figli succede spesso con i suoi figli interagisce con loro e a un certo punto mentre fa delle cose è come se l'entità mentale di livello 3 le mettesse le fa girare le scatole non li sopporta perché l'entità mentale di livello 3 è come se le mettesse un pensiero che la come se la facesse tornare indietro un pochino e figli prendono spazio ad autorità dc sì c'è come se lei perdesse il suo spazio verso i figli e figli possono invadere ok quindi lei poi sarà rabbia perché vuole tenere un altro un altro un altro risultato e non riesce non sa perché ok le celevi la tua l'entità mentale di livello 2 e sposta le cose nella mente però risposta ai pensieri quindi lei sta per dire o pensare qualcosa è diretta cessa perfettamente da arrivare quando è quasi lì l'entità mentale di livello 2 le sposta il pensiero e quindi poi deve andare a riprendere il pensiero prima perché ne pensa un altro quindi è come se le cambiasse le carte in tavola come se le cambiasse le proprio la sua idea mentre fa qualcosa la rende un po' confuse ma per quel motivo lì quindi una 2 1 3 4 non c'è più era il fumo il fumo lo sai bene britney ti abbassava la vibrazione è così quando lei fumava stava sui 25 miliardi no quando lei fumava soprattutto allora un po durante tutto il giorno perché siamo poi a furia di fumare la vibrazione non fa in tempo a tornare in su ma soprattutto mentre fumava la sigaretta la vibra sua vibrazione arrivava che 800 milioni si abbassava parecchia riusciva ad alzarsi fino a un miliardo si esatto miliardo e di entità etere che c'è una ex mantida non c'è più la mantida no il falconi forme c'è ma se 3dl no elementali come fanno a lavorare con lei sono col pensiero si con l'impianto mentale a livello solo di pensiero nel suo caso quindi non c'è un impianto mentale c'è proprio il pensiero pulito se quindi diciamo che fondamentalmente brit non ha niente una la più grave la la buttata fuori lei quindi chi ha deciso immagino la sua ps ma vediamo che ha deciso di fare il viaggio alle sequoie al parco delle sequoie e chi l'ha spinta ad abbracciarle perché al di là del fatto che si è liberata dei cilindrini di cara di carta con dentro il tabacco che non servono a niente ha aumentato tantissimo le sue frequenze ha fatto fuori l'unica vera interferenza che aveva ancora dal sola quattro andiamo a vedere cosa è successo grazie sequoie grazie ps di britney beh la ps di britney che ha deciso di fare questo viaggio in quella maniera lì c'è proprio a contatto con l'energia delle sequoie di quel posto lì cioè io vedo se non so com'è perché insomma stata e non so ma vedo una distesa abbastanza grossa ok e vedo che dove era lei è come se ci fosse giusto è esatto come se ci fosse stato proprio un cerchio energetico particolare in eterico lo vedo azzurro vedo questa energia azzurra delle sequoie che proprio parte dal terreno e va fino su e se tu sei dentro viene travolta da questa energia azzurra alcune le sentite calde come un canale è come un proprio canale che direi che viene anche da sotto il terreno proprio tutto passato di tre notti e quelle tre notti non ha dormito molto bene con il marito apparentemente per la paura degli orsi che però sicuramente no molto sicura quindi limite che ti entra dalla camera ti sgozza rosso immaginano che ci manca sì invece invece sì beh non è una tenda però vaga lo muscial è una cosa così no ai macchie a un camper c'è un pericolo comunque comunque non hanno dormito non hanno per la porra dell'orso che poi hanno visto o c'era la vibrazione era altissima era altissima cioè come stanno a ti dico la vibrazione che c'è lì sempre è un mille miliardi sempre con la vibrazione allora in quei giorni lì al è arrivata anche a 600 700 miliardi stare sempre con quella vibrazione lì nella materia non è semplice c'è bisogna avere un allenamento altro che stare svegli un messaggio qualunque delle sequoie te lo traduco come se avesse mi fanno vedere come se avessero delle mani che prendono l'energia della terra intorno a loro mi dice mi dice addirittura tipo la frequenza di schumann proprio ok uniscono le mani e la alzano e quindi di e al loro livello e questo lo fanno lo fanno per potenziare l'energia terrestre allora mi dice che sta dicendo che le piante soprattutto gli alberi in generale hanno nascono per per diciamo per equilibrare le vibrazioni dei luoghi e a seconda dove di dove crescono hanno delle vibrazioni che sono più ideali per quei luoghi ok le sequoie di questo parco sanno cos'è una d'eterno no ce l'ho fatto vedere e dice ok e come la nostra vibrazione ha riconosciuto la vibrazione come la loro 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 lo possono creare mi dice non ho bisogno di fare la dette al mio di fondo questa vibrazione la diffondono nello spazio lo fanno anche gli alberi oltre alle sequoie nel mondo si però loro sono in un punto particolare dove la loro vibrazione molto molto più alta rispetto a quello degli altri alberi ci sono alcuni punti nella terra come questo non è l'unico quali sono altri un altro paio ce n'è uno vicino in fondo in fondo sud america dove c'è il passaggio come si chiama del fiume no no quando passi da una parte all'altra del continente americano sudamericano in fondo ci siamo capo di buona speranza ah ok ok lì appena c'è su c'è un punto vicino proprio alla costa lì sulla punta poi ce n'è uno in mezzo la siberia poi ce n'è uno in oceania su un'isola piccola isola non ci sono alberi però in questi posti piccola isola non credo sud punto estrema la patagonia non c'è niente ma i licheni due centimetri d'altezza non cento metri o più quindi è un luogo magico un luogo unico la se va va bene ciao sequoie causa esoterica del sogno del doppio sogno un po lugubre di britney sogna che la cinta mi vacca no a forza e in un secondo sogno e inseriscono un chip è stato un tentativo di abduction due tentativi di abduction è come se avessero voluto camuffarli le hanno inserito il pensiero il sogno vicini vacche e di microchip collegandosi alla situazione di adesso hanno cercato di camuffare questa cosa facendole credere che era un sogno per cercare di portare avanti la loro le loro abduction però non sono riusciti perché già solo il fatto che lei si è accorta di sognare queste cose ha bloccato le abduction le stavano fa erano lei si è accorta quando era sul lettino tipo legata la vedo e lì non sono riusciti a iniziare l'esperimento quindi la ps è riuscita a liberarsi dall'attaccio hanno hanno smesso però nel momento in cui la ps come se fosse svegliata lo non ho provato a far credere a britney che stava sognando per poter andare avanti ma non è servito ma l'occhi siriani seriani is the new player di anni no satana è lei di anni però anche siriani che sono i creatori della della minchiata del cinema che della minchiata o del cinema che la minchiata tutta tutta sì sì tutto circo tutto il circo futuro siriani quanti sono via tutti dentro tutti 6 6 6 uomo in energia bla 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 uomo energia britney a una nuova creazione è un uomo trasumanesimo energetico by lucio carsi e anche con un posto della stessa sostanza con cui sono fatti i sogni e gli ad eternum è un uomo ad eternum e vive solo per abbracciare abbraccia 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 l'entità sono dei caldi abbracci sembra un po un omino michelin ma non è fatto da pneumatici è un po ciccione ma un po anche muscoloso al punto vita molto stretto ed è un tontolone che cerca caldi abbracci da dare quindi adesso i sei siriani si prendono sei caldi abbracci di sei uomini energia come cantava la morisette thank you chissà che cosa ha combinato la morisette l'hanes la differenza delle entità pure sono una parte fisica no quindi li vedo congelati lì che continuano a vibrare anche quando molla l'abbraccio continuano a vibrare abbraccio ad eternum per sempre sono nate 6 9 coppie l'uomo energia è ben contento di abbracciare per l'eternità qualcosa il siriano non è nostro problema noi noi abbiamo chiesto sta porcheria lui ce l'ha data qualche modo ringraziarlo no soltanto un eterno abbraccio quindi insomma erano questi vabbè fatto finito causa esoterica del visto che non arriva ho già visto prima è come se avessero deciso di fermare un po tutte la tutti i meccanismi sociali no apposta nel senso fa parte del della sceneggiatura di tutta questa storia quindi a un certo punto c'è caos c'è questa roba che gira blocchiamo anche tutta una parte burocratica diciamo che con la scusa che non c'è personale con la scusa che si devono valutare le vedo questo gli spostamenti tra nazioni e continenti hanno congelato tutta una parte burocratica tutta questa parte burocratica quindi non riguarda lo riguarda un po tutti se ok e green card lotteria allora con le condizioni di oggi io vedo 80 per cento si ok fai mettere e creare una d'eterno mal da britney e lo mettiamo sulla green card ok nuova approcci percentuale di probabilità 98 meritiamolo anche sul visto ciò che ci siamo così vedo che potrebbe esserci un movimento verso aprile ok causa esoterica del grande malessere ha avuto con l'arrivo della madre è la madre in sé che ha deciso percorso per se stessa è il cinivac della madre non c'è molto da analizzare diciamo no nel senso che percorso delle due ps insieme è un po stride un po ok questo ha fatto sì che le che si abbassassero tanto le vibrazioni di britney a tal punto che il falconiforme è riuscito a interferire da agganciarsi la stanchezza che lei sente questa spostatezza è proprio falconiforme che riesce a prendergli un po di energie durante la giornata ok abbassato tanto la madre però perché lei stava rischiando di si sta svuotata e ha rischiato di tornare col vizio se si infatti parecchio tanto tanto infatti non sarebbe riuscito falconiforme sai a interferirla se non se non fosse non avesse abbassato così tanto le vibrazioni è arrivata anche ai punti a dei punti di 6 700 milioni in alcuni episodi va bene andiamo una dica la madre nel cinema ma tutti e tre i suoi uomini della vita marito ma c'è bisogno che il marito che ha fatto una sessione in passato ma non mi sembrava così coinvolto diciamo quindi di formazione consapevolezza e un'altra pillola nuova la cdf coraggio decisione forza a chiunque serva e via che colore la vedi la cdf blu rossa e verde esatto io la vedevo azzurra e arancione l'ok poi una bella eterna frequenza la madre perché ne avrà bisogno un valido bolla e facciamo creare a tutti una d'eterno ma di prova se vogliono insomma la jimmy infinitum che questa tanzina vicino al cinema da cui si accede attraverso il cinema dove ci si allena no ci si allena e ci si prepara con prendendo rumore vedendo le informazioni hai sentito sera sai che non fa stranissimo non ho mai vista c'è stato un passaggio net e ricco n è come se ci fosse stato un passaggio di una di un qualcosa che come se nel suo passaggio è entrato nella nostra rete per uscita ma chi era hanno ti descrivo secondo me è un grigio allora si guarda la faccia è un grigio con il mantello nero io mandiamo un settimo uomo energia che se lo va ad abbracciare vai uomo energia abbraccia mamma povero grigio dura tre secondi quello quello lo fulmina va bene dicevo nella 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 jim infinitum si possono imparare le tecniche per creare queste cose quindi anche i bambini se vogliono ci possono mettere un'interna frequenza possono capire come fare ad eternum tutto il gioco delle dita l'abbiamo detto l'abbiamo registrato nei punti come si creano ad eternum usatelo e ovviamente ogni volta che usate c'è da versare un euro copyright ma oddio non c'è anche lei li può versare tanto usa i dollari e quindi gli euro può far finta di versarli tanto usa e donna ok beh c'è la conversione però va bene abbia fatto tutto cini vacca forza chip se cuoie fumo vuole diventare una perla praticamente lo è già il marito fatto ah beh creava attività serenità gioia salute abbondanza grazie signore grazie già sono sono conseguenze invece divertiamoci chiamiamo bidet chiamiamo il governatore della california e chiediamo il drago se qualcuno dice chi è drago smetta subito di vedere questi figli questo video mi raccomando la signora che l'ha scritto deve smettere e vede canale 5 dove c'è che che manca molto a britney che è italiana dove c'è dove c'è barbara d'urso che parla di come ci si lava le mani per la minchiata lì sì che ti spiegano chi è drago s noi non te lo spieghiamo chiederà cosa andiamo dritti molto semplici siccome dobbiamo dare delle belle spallate prendiamo tre nuovi uomini energia che iniziano con un bel abbraccio eterno mentre abbracciano questi tre soggetti loro le loro fauci si aprono perché l'abbraccio molto forte allora ne approfittiamo e mettiamo tre ad eterno nelle tre fauci chiamiamo anche lui 4 sono con un altro uomo energia che abbraccia stretto e apre le fauci di fauci altro nuovo ad eterno un dentro la bocca qualcuno mi suggerito passa bene qualcuno suggerito di metterne uno anche dall'altro foro ma va bene così un uomo energia più una d'eterno un corso come dai ma nel senso sì dai abbiamo già si dai ma per sicurezza facciamo un giro tondo di uomini energia intorno questi tre che sono braccati da tre uomini energia e più muscolosi e da questo di rotondo non esce nessuno se sai uno dovesse di vincolarsi scappa tac viene beccato da un nuovo uomo energia ne viene messo sotto in mezzo povero drago senza tanto male poverino 26 gennaio 2021 tic tac tic tac bene britney andiamo con lei al cluster no cosa c'è qua allora ci sono ci ne sono pochi di contratti e come se le vite che ha ancora fossero raggruppate i pochi argomenti esperienze sono tipo su 53 quindi tutto molto raggruppato come se avesse fatto ordine nel frattempo quella il contratto di questa vita quel che rimane perché se cosa cosa riporta cosa dice come si chiama il cerchio della vita il titolo è perché vedo loro due fiamme coi figli che con una spirale che parte da loro è il senso è il senso della vita della della ps dell'esistenza della ps è il senso della dualità nell'uno è la l'esperienza se riescono arrivare in fondo a sentirlo perfettamente a sentire perfettamente che sono uno nella dualità quindi poi a sentirlo proprio profondamente è l'ultima vita quindi possiamo dire concludere diciamo quasi la sessione con quello che sarà il titolo 1 più 1 uguale 11 se esatto no è l'esperienza è proprio riuscire a sentirlo nel profondo questo uno che non vale un ritmo ritmi uno più uno le due fiamme e tu non conosce sottovaluti uguale abbiamo rivissuto il momento della separazione ma era uno è tanto più uno adesso torna a diventare uno esatto io non so perché questa cosa la immagino la visualizzo sempre come due persone che volano che si tengono per mano è il momento della separazione quando si lasciano le mani le due mani quello è un momento molto importante molto emozionante molto triste però c'è una grande scommessa dietro c'è una grande promessa lì c'è una grande promessa ecco quello che ti chiedevo della 351 si ma si è fatti nel nel processo ok quello tu dici la separazione che cosa si è quasi come se in quel momento lì non è ben chiaro cosa sia l'uno è un gioco sì e quindi lo si fa quasi in maniera sconsiderata eh sì esatto non è chiaro quanto è difficile il tornare indietro ma possibile necessario inevitabile necessario esatto ma ci deve essere la divisione perché sennò il gioco non finisce perché non è che è chiaro che cosa significa essere l'uno fino a che non si torna a essere uno ok quindi questi 50 e rotti contratti via portale definitivo siamo dentro qui nel cluster di britney un ad eterno lo fa lei ovviamente fa tutto lei questa che la sua ultima sessione non ce n'è più bisogno dopo ma poi ti dico mi è venuta un'idea lo fa ma forza se si ci ha fatto se avatar sono molto curiosi di sapere cosa c'è qualcosa c'è perché non c'erano le entità mentali realizzate una volta vedo solo ma ancora meno dello spicchio di solito vedo più o meno lo spicchio no qua allora vedo il bordo come se fosse quello di una perla e presente e poi più o meno corrispondenza del bacino su questo lato quindi se lo guardo avanti sul lato sinistro dell'avatar c'è un una una un'area che che è consistente c'è quella parte lì si vede dell'avatar che il resto di un tre vuoto invece che esserci lo spicchio dice tipo una macchia da tutto ok chiuso portare definitivo bene ad eterno ma anche qua immagino che tornando di qua ad analizzare la situazione eterica subliminale di britney non ci sia più nulla esatto c'erano cloni no 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 abduction quelle due tentativi e basta no se te lo fanno vedere i figli hanno sono soggetti ad abduction piccolo no il grande qualcuno si beh il cinema proietta tutte queste informazioni quindi il grande lo sta vedendo sì sì se desidera fare questa esperienza è libero di farlo se desidera usare giocattoli della gym lo può usare di può usare è lui che decide magari non ancora finito di fare delle esperienze magari può fare l'esperienza di continuare a essere il soggetto delle abduction ma decidere di ricordarsene così una volta che se le ricorda alla prossima volta che ne fanno una è più consapevole e magari quando è lì nell'astronave e che gli fanno l'abduction e sa fare le ad eterno puntini puntini devo vederlo in una l'eterno in una sonata che cosa fa se si deve divertire sta ps si diverte almeno no è giunta l'ora di fare un po di scoppi bimbo matto bombarolo bnb bene bimbo matto bombarolo molla giù un po di bombarole sulla testa dei tre che vengono abbracciati cose che finiamo fatto drago dagli occhi acquosi vide dalla faccia di cazzo proprio è il governatore della california non so che faccio solo ci sia ma se come il vecchio che tirava sui pesi non dico proprio non è così ma simile secondo me c'è quello che vedo io troppo vedo pari che hanno quarto ha già c'è anche anche fauci aperte tanto il continuo di dire come se ne freghiamo nel cazzo ho detto cazzo non dire cazzo dire cazzo se non ce l'hai neanche come diceva tra battoni su solo questo del calcio qualcosa me non so che fanno sono frizzati che friggono immobili che le mie bombette se le prendono sono obbligati non possono muoversi allora una determinazione corpo fisico di britney una nel corpo e emozionale 1 nel corpo mentale 1 nel corpo eterico 1 nel corpo subliminale 1 a casa sua 1 nel posto in cui lavora e mostra al marito come farli così anche il marito se lo mette nel posto in cui lavora la sua macchina dove gli pare la sacca della palestra dove gli pare anche i bambini se vogliono se ne possono portare uno nello zaino quando vanno a scuola o meno tutta la famiglia ha imparato come fare io non so più che cosa fare quindi francamente non lo so ah no e beh possiamo fare un esperimento prima vediamo quanto a quanto ma ecco facciamo due esperimenti vediamo quanto vibra britney adesso dai suoi 25 miliardi 258 bene davanti le mettiamo il marito e il suo personale uomo energia lei quello che lei creerà con un livello di energia che lei deciderà se lei a mire alte sarà libera alto li vedi ok 250 58 adesso le dà la mano al marito che è la fiamma ma quanto vibra 731 si stacca e si prende un abbraccio da uomo energia più o meno uguale 800 si stacca nuova consapevolezza 214 ok si attacca al marito con una mano quale usare adesso la sinistra a sinistra lei sinistra a quanto stacca 436 si stacca e si abbraccia come energia quanto sta di consapevolezza 328 ok si stacca vediamo solo la ps la pie che già non erano messe male 67 33 vite precedenti 600 cervello 9.9 si attacca al marito cervello 18 giornate così tanto quindi scusami se lei si attacca al marito può leggere il pensiero infatti se lo leggono tra loro si stacca dal marito si prende l'ultimo abbraccio di suo uomo energia 13 per cento a un nome il suo uomo energia che non sei non è il suo amante ovviamente mi dice c'è scritto in tipo qua malcolm malcolm molto bene messaggio finale abbiamo finito gioca l'immagine che vi viene lei che gioca con i suoi figli per allenarsi a utilizzare l'energia e le il suo cervello ok quindi anche imparare più avanti a muovere gli oggetti e vedo che gioca con i suoi fii per fare questo gioco con i suoi figli come se fossero al circo quindi imparano magari a fare i giocoglieri e fare i salti queste cose qui intanto alza le vibrazioni messaggio se approfondisci questo discorso della fiamma perché la forza avete una forza grandiosa che adesso di cui non siete coscienti ma se voi vi concentrate sulla vostra forza la vostra capacità aumentano in maniera esponenziale anche le vibrazioni e lasciar fuori le interferenze sentila questa forza sentila perché è quella fondamentale adesso la vedo che fluttua in aria e fa le rivoluzioni in area con marie palle energetiche di vari colori per rimanda in giro così la salutiamo cosa fa lei ci saluta mentre frutto e ride serena è felice di fluttuare di comunque lo dico nella registrazione britney completamente pazza è molto simpatica però va bene elena disconnetti da tutto e tutti e dimmi quando sei pronto per tornare a eccomi conto da una 5 e al 5 se al tempo presente dal quale ti sto parlando 1 2 3 4 e 5 apri lentamente gli occhi buonasera buonasera cosa è uscita cosa è uscita la su computer c'è un quadro qua vai sì ci sei già britney sì 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 bene è stato molto divertente bene bene molto divertente siamo in registrazione ancora ok no no quello che vuoi no no puoi parlare assolutamente anzi chiami ancora britney diciamo mi chiamo ancora britney ok mi ha fatto ridere 1 più 1 uguale 1 perché ho visto quello che avevi postato su facebook e poi vabbè perché allora ho pensato che mio figlio piccolo non è proprio scemo scemo anche per lui 1 più 1 fa 1 ancora quindi nonostante abbiano lecate chissà se chissà se un messaggio che ti stava dando no eh sì probabilmente chissà quindi devo fare il giocogliere cioè io ce la faccio di una che fa il giocogliere posso mettere i coltelli magari ma ti stanno sentendo che sei completamente pazza vedi che io avevo ragione a dirlo scusate completamente ma non poco completamente ma è vero che tu canti a las vegas una serie infinita di ah no quella è proprio la vera britney quella è la vera vado tra due settimane a las vegas per un convegno ma non andrò a cantare vai a sposarti con uno che passa no eh no volevo anche sposarmi lì ma sai com'è è un po' complicato ma prima o poi faccio anche quello ma se sei già sposata ma cosa dici ma no volevo vestirmi tipo che ne so qualche personaggio strano la sposa magari esatto sopra di alla marylin sposa tipo matto ho detto ma scusate ma ti sei divertita ti è piaciuto moltissimo sei riconosciuta molto molto a parte la serie del giocogliere ma sì ma vabbè insomma devi giocare con i tuoi devi vedere proprio in eterico l'immagine era quella quindi poi la devi trasformare ok e poi cosa mi è piaciuto molto beh devo capire meglio la questione della fiamma allora sì è fondamentale devo fare delle ricerche in realtà lui mi ha sempre detto io ti stavo aspettando ah vedi lo so guardato tuo marito sì ma lui è lui quello più fiammoso di me diciamo ah ecco è quello più infiammato io sono un po' meno infiammata nel senso lui è quello più attento alle mie esigenze quello più cioè per lui è importante che io stia bene capito cioè alla fine devo dire la verità mi sento molto apprezzata molto amata da lui molto sì quello cara Britney è l'amore incondizionato eh sì devo dire pensi all'altra persona è il suo bene perché sai che questo ti fa stare bene non non c'è sì è abbastanza reciproco nel senso che quando lui va giù io vado giù eh sì cioè per me lui è un buco nero nel senso che quando sta al top sto al top eh sì lui comincia ad abbassare perché di vibrazione o qualcosa lo senti non va bene al lavoro lo sento frustrato oh mamma noi incominciamo un tunnel sì sì entanglement benvenuta cioè per me è proprio così cioè lui va giù io vado giù lui va su io vado su penso che il tutto ruoti più su di lui nel senso che è più forte lui è più è quello che non lo so ci tira più su ecco è quello che tiene più insieme ci sta sai uno dei due no va bene chiudiamo qui la registrazione grazie bretini grazie Elena grazie ciao 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 ciao